Un evento importante che porterà nel Golfo della Spezia, ma in particolare nel Comune di Lerici, molte persone, una buona vetrina anche per il territorio. Sì, va bene, ripetiamo un evento che lo scorso anno è stato un successo, quindi quest'anno anche con l'esperienza maturata l'evento non potrà che crescere, dare tanta soddisfazione, portare tanti giovani a far conoscere l'Erici, a far conoscere il nostro mare e le nostre strutture, la possibilità di comprendere che qua si può fare sport, che l'Erici è un luogo divertente, un luogo dove passare le vacanze, ma venire anche a fare attività agonistica, perché abbiamo strutture altamente qualificate, la Lega Navale, i nostri circoli velici, il Comitato dei circoli velici, abbiamo la Scuola di Mare Santa Teresa, insomma sul mare siamo pronti ad affrontare qualsiasi sfida e a vincerle tutte. Dopo il successo dello scorso anno, quest'anno si replica, come sarà organizzato l'evento? Parte tutto giovedì mattina, si chiuderà l'evento domenica pomeriggio, quest'anno un successone, perché contiamo 120 barche iscritte, quindi per il Golfo di Spezia penso sia la più grande regata mai vista nel nostro golfo negli ultimi cent'anni. Abbiamo una grande risorsa, abbiamo lavorato con tutte le associazioni del territorio, quest'anno Erics ci siamo mossi per tempo, ci darà una grossa mano nella collaborazione di tutto quanto, abbiamo tutte le associazioni locali del territorio storiche, dalla Pesca Sporta, alla Rotonda, ai Merene d'Italia, al Gabbiano, quindi abbiamo la Borgata del San Terenzo, la Borgata della Venere, quindi abbiamo coinvolto tutte le associazioni, è un evento del territorio, è un evento che insieme agli altri eventi che verranno fatti dai ciccoli velici dovrebbero portare il nostro golfo ai vertici delle manifestazioni veliche del Golfo di Spezia. Qual è il contributo della Marina Militare in questo evento e negli eventi simili? La Marina Militare attraverso la sezione velica della Spezia, è membro del Comitato dei Ciccoli Velici del Golfo e quindi concorre al pari degli altri circoli al supporto logistico che serve per le legate. Quando non è organizzatrice a sua volta, in questo caso l'organizzazione è a cura della Lega Naval Italiana di Leici, fornisce contributo di personale, di imbarcazioni, ma anche di logistica a terra se necessario attraverso le nostre strutture.